di calciopazzo c'è stato lo scisma come sapevate noi seguiamo la squadra di fantacalcio di calciopazzo omonimo insomma c'è qui il mio allenatore io sono il presidente però che cosa succede che praticamente uno dei fantacalcisti è venuto meno e quindi muo è avanzato a sta squadra mi hanno detto talipi a te non è morto si sono presentati con una testa di cavallo a casa mia ricettatevi più a te tra l'altro questo comporta anche una spesa di 50 euro piamo se sta squadra adesso vi dico chi non l'ho preso i giocatori vediamo chi ha preso questo questo signore che è venuto meno vediamo chi ha comprato allora in porta ci abbiamo buffon per in e neto si buffon uno dice si buffone però se buffon mi viene meno diciamo che sta a fine carriera poi se quest'anno ha deciso che è l'anno del come si dice del cigno come si dice del cigno il canto del cigno che famo che famo l'anno del cigno difensori alex sandro dignier murillo evra versalico zucanovic maicon ed nilson al centrocampo ciò perisic che tutto malo insomma parolo brienza biglia ma ingolano fernando chisina e brozovic tutti dalla lazio sono il signore laziale eh no vabbè di natale in attacco ilicic palaccio denis destro i pandep beh oggi c'è il mercato quindi datemi suggerimenti dai chi vabbè giustamente devo dire una lista di svincolati non possiamo più parlarti siamo nemici ah siamo nemici ecco vedi hanno rotto un'amicizia questo fatto che perché sei venuto meno che cazzo vai a dedicare i coglioni a me io facciamo una comunella e lui voleva mi ha detto te no quindi va contro calciopazzo cari amici di calciopazzo non lo seguite più perché lui va contro calciopazzo io gli ho detto facciamo uno scambio lavari io ho detto a pavoletti e tu mi dai gli ho detto di bala che io non ce l'ho e mi ha detto comunque di nuovo quindi calciopazzo è finito calciopazzo è morto se non ce l'ho come faccio a tasto non lo seguire più è un cialtrone cioè c'ho destro lo fai destro fammi a cambio destro con pavoletti è povero destro tornerà sotto la mia guida perché io sono zemaniano gli faccio fai gradoni e faccio sfuta sangue ma lui c'ha quella che vuole assesonata che vuole assesonata iiii e biii iiii e biii